Idem, così come il resto del gruppo politico che ha scelto la linea della responsabilità in consiglio comunale, una posizione l'hanno presa non sostenendo la sfiducia del centro-destra. Le dimissioni del sindaco Lucio Greco sono state ritenute un successo politico, caldeggiate proprio durante la lunga seduta della scorsa settimana che ha sancito la scelta dell'avvocato. Nei prossimi giorni invece il fronte progressista e i civici di Una Buona Idea hanno in programma una riunione ancora da confermare. C'è comunque tutta l'intenzione di confrontarsi per fare un bilancio non solo rispetto a ciò che accadrà a breve a Palazzo di Città, ma anche per sviluppare ulteriormente un'intesa che sembra avere le basi giuste. I democratici invece una disamina interna la faranno ad inizio luglio. Il segretario cittadino Guido Siragusa si appresta a convocare l'assemblea. Sarà l'occasione per valutare se la linea della dirigenza locale venga sostenuta oppure se i critici possono avere elementi per metterla in discussione. Il segretario intanto ribadisce che le scelte fatte in consiglio comunale non sono per nulla volte a chiudere intese politiche con i pro greco. Anche il rendiconto verrà valutato partendo però dal presupposto che ci sia un parere favorevole da parte dei revisori. Tra le fila dei pro greco, come ha sottolineato già alcuni giorni fa il consigliere Diego Iaglietti, c'è comunque chi è cauto nel riscontrare la linea della responsabilità. Quindi la prova del rendiconto in aula consigliare dirà molto non solo sul cammino politico intrapreso dai progressisti ma anche sul futuro immediato del primo cittadino che pare incline a rientrare ma se ci sarà un esito favorevole per gli atti finanziari.